Al termine del 2021 Casa Artigiani Abruzzo stila i bilanci dell'economia abruzzese per lanciare nuove proposte di intervento alle istituzioni. I dati a disposizione sono quelli di fine settembre-inizio ottobre di Infocamere Movimprese e del sondaggio di Banca Italia su un campione di imprese manifatturiere abruzzesi. A fronte della cancellazione di 855 imprese, ben 1.356 si sono scritte in Abruzzo. I tassi di crescita di Pescara e Chieti superano addirittura la media nazionale, mentre Terramo e L'Aquila ottengono un risultato inferiore. Il dato confortante è l'adesione massiva alla campagna vaccinale che ha determinato l'allentamento delle misure restrittive e la ripresa delle vendite. Di riflesso si sta assistendo ad un recupero di investimenti e dell'export, quest'ultimo addirittura superiore ai livelli pre-pandemia. Ma il quadro occupazionale è addestare la massima attenzione di casa artigiani, se da un lato la ripresa delle attività produttive ha generato una nuova partecipazione al mercato del lavoro, dall'altro si assiste ad un ricorso significativo agli strumenti di integrazione salariale e alle misure di sostegno al reddito. Per quanto riguarda poi il settore delle costruzioni e delle vendite immobiliari, questo è caratterizzato da una forte ripresa addirittura superiore a quella del 2019. Infine il credito, termometro del vero stato di salute delle imprese abruzzesi e questo è il settore maggiormente attenzionato da parte di casa artigiani Abruzzo. La domanda di finanziamento si sta riducendo rispetto al 2020 e prima che gli effetti diventino irreversibili per casa artigiani ora più che mai è necessario un sistema bancario territoriale più flessibile.